comunque ragazzi adesso potete trovare potete trovare divertente per licep di venile o la barba di ored io trovo divertente questo ma capisci che una cosa che è illegale confermi che comunque che ti diverti fare a fare questo cioè ti diverti non lo so fare come ti diverto come poi la sua settimana fa a milano che una tipa si è messo la porta al balcone odio i gay pride a me ha divertito mi fa ridere la barba di ored tantissimo perché insomma è rossa barba rossa e io posso dire per qualunque cosa che voglio insomma il problema che c'è su cosa mi diverte cosa no ecco per esempio io odio i bonghi odio chi usa tutti i tipi di canne ored anche questo can you hear the silence can you see the dark can you fix the broken can you fix the broken can you fix the broken